La doppietta di un ispirato Castanos e del poker di un volitivo di A hanno aggonfiato il bottino finale della Salernitana nel primo test della nuova stagione contro la Delfino Curi-Pescara. 9-0 il finale per i Granata che Martuscello ha proposto in campo con il 4-2-3-1, il modulo su cui sta insistendo dal primo giorno e che la squadra sta cominciando ad assimilare. Gli automatismi andranno affinati con l'intesa tra i singoli e qui è il nocciolo della questione. Con quale organico Martuscello affronterà la stagione è una domanda a cui non si può dare ancora risposte certe. È chiaro che avere Castanos e D.A. sarebbe un conto non avergli un altro. Al di là del valore tecnico di questi ed altri calciatori poi, la questione sarebbe un'altra. Un conto sarebbe cedere loro a questi ed altri titolari ed avere margini di tempo e di liquidità per sostituirli. Un altro sarebbe doverli congedare sul finire del mercato quando reperire sostituti all'altezza diventerebbe una missione quasi impossibile. Martuscello per ora lavora con chi è in ritiro e tutti, ad onore del vero, stanno rispondendo bene alle sollecitazioni del tecnico che nel test di ieri ha dovuto rinunciare a qualche acciaccato, compreso Bonazzoli, uno dei tanti, sul piede di partenza. Il tecnico ischitano in conferenza stampa non si è fasciato la testa ed ha anche ammesso di aver chiesto al DS Petrachi di provare a trattenere quattro big della rosa attuale. La voglia di lavorare non manca al tecnico come anche la consapevolezza che la costruzione di un progetto tattico deve partire da qualche certezza ed avere a disposizione alcuni elementi di un certo spessore potrebbe aiutare non poco. Ieri ha assistito da remoto al testo con la Delfino Curi anche il presidente Iervolino che avrà sicuramente letto i tanti messaggi dei tifosi che sottolineavano quanto egli stesso aveva affermato in conferenza stampa la scorsa settimana a proposito del potenziale attuale della rosa. Chissà quali conclusioni avrà tratto il proprietario del club di Granata sul mercato e su tutto il resto.